Ben trovati a Toscana Parlamento, il settimanale di informazione sulle attività del Consiglio regionale della Toscana. Tornate a riunirsi in questo 2022 per nominare i nomi dei tre grandi elettori che andranno a confluire nella seduta plenaria prevista per lunedì che sarà incaricata alla Camera dei Deputati a Roma di eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, il Presidente della Giunta Eugenio Gianni e il voce delle opposizioni, Marco Landi, sono i grandi elettori della Toscana che da lunedì 24 gennaio a Roma parteciperanno all'elezione del Presidente della Repubblica. I grandi elettori come da tradizione sono in rappresentanza sia dei gruppi di maggioranza, due, che delle opposizioni, uno. Mazzeo è stato nominato con 27 voti di preferenza, Gianni con 25, Landi con 13. Ha ricevuto due voti anche Irene Galletti, capogruppo del Movimento 5 Stelle. È registrata anche una scheda bianca. Un grande onore e una grande responsabilità andare a scegliere il successore del Presidente Mattarella, a cui va un grande grazie per il lavoro che ha svolto in questi anni, con serietà, passione e dedizione. Il compito che avremo non sarà semplice, trovare una figura che abbia la sua stessa capacità di saper essere garante della Costituzione, di saper rappresentare le cittadine e i cittadini italiani, un alto profilo istituzionale e anche quelle qualità e quelli doti morali che sono fondamentali per fare il Presidente della Repubblica. Il ringraziamento va ai gruppi della Lega, di Forza Italia e di Fratelli Italia. Il centrodestra in questa occasione ha dimostrato compattezza e indicando a livello istituzionale il portavoce dell'opposizione. Questo è un onore per me rappresentare la Toscana, ma anche venendo dall'isola d'Elba tutte le zone periferiche della nostra regione e anche tutte le isole minori d'Italia. Sicuramente è un impegno che si prende con lo spirito più alto che l'elezione di un Presidente della Repubblica deve avere e quindi cercherò di portare avanti il mandato che mi è stato dato nella maniera migliore e più alta possibile. Prima delle operazioni di voto il Presidente del Consiglio, Mazzeone, ha spiegato nel dettaglio le modalità, visto che per la prima volta e come una delle prime esperienze in Italia, l'Assemblea Legislativa della Toscana, pur convocata in presenza, ha espresso il voto in modalità elettronica attraverso una piattaforma dove sono implementate tutte le direttive del garante per la protezione dei dati personali, al fine di rendere i dati di votazione integri, autentici e segreti. In apertura di dibattito, il capo gruppo del Partito Democratico, Vincenzo Ceccarelli, ha ricordato che l'Italia si trova ad un passaggio importante e solenne, ha indicato Gianni Mazzeo come candidati ad essere i grandi elettori del Partito Democratico e della maggioranza regionale. Per Elisa Tozzi, che dal mese di febbraio entrerà a fare parte del gruppo misto, la scelta dei grandi elettori rappresenta un'opportunità è una sfida, perché dovranno contribuire all'elezione di un Presidente della Repubblica che sappia farsi carico dell'interesse generale del Paese, del bene comune e dell'interesse di ogni cittadino. La Regione Toscana ha eletto i propri delegati alle elezioni del Presidente della Repubblica e credo la notizia più importante è che si siano individuate le figure di carattere istituzionali, sia nella maggioranza che nella minoranza. A noi ho trovato pienamente convinti questa soluzione nel sostenere il Presidente della Giunta, Eugenio Gianni, il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e a rappresentare la minoranza sarà Marco Landi, rappresentante e il portavoce delle opposizioni. Credo che sia stata un'elezione corretta nel rispetto dei singoli ruoli, quindi tre figure che avranno l'onere e l'onore di rappresentare la Regione Toscana, tutti i propri elettori e la Toscana sarà partecipe di un'elezione, a mio avviso, di un Presidente della Repubblica che possa essere, come abbiamo chiesto in Aula, europeista, garante delle istituzioni, garante dell'unità nazionale, ma soprattutto una persona in grado di respingere i tentativi e le pressioni del populismo come quelle del sovranismo. Una grande figura istituzionale e abbiamo piena fiducia e diamo mandato, quindi tre grandi elettori della Regione Toscana, di rappresentare tutti noi come Consiglio regionale e per conto nostro tutti gli elettori della Regione Toscana. L'espressione dei grandi elettori delle Regioni sono un segnale di continuità tra Roma e il territorio e l'intero suo territorio che i padri costituenti hanno voluto consegnarci con l'impegno di garantire la rappresentatività, che è un fattore fondamentale, qualcosa che la nostra Costituzione sottolinea in ogni suo passaggio, oltre alla rappresentatività e anche quella dell'inclusione. In questo passaggio c'è da dire che noi abbiamo, come Movimento 5 Stelle, abbiamo voluto dare indicazione al Presidente del Consiglio, Antonio Mazzeo, di rappresentare politicamente tutte le forze che sono espresse all'interno dell'arco consigliare, consegnando a lui questa fiducia. E dall'altra parte ci sarebbe piaciuto vedere anche l'espressione della totalità di quelli che sono i cittadini toscani. E questa totalità riguarda per la metà donne. Donne che fra i tre rappresentanti che andranno a eleggere il Presidente della Repubblica non sono espresse. E questo dispiace perché tutti i gruppi politici si riempiono spesso la bocca, mi viene da dire, con parole riguardo la parità di genere, l'inclusione, rappresentatività. Però poi arrivano le azioni concrete e ci troviamo di fronte a questi numeri che più volte nel corso di questo anno già sono stati anche denunciati dalla Commissione Pari Opportunità. Molte nomine, la maggior parte sono uomini, pochissime donne. E dispiace che nessuno si sia voluto far carico di questo, neanche il Partito Democratico. Questo lo sottolineo proprio perché secondo noi è una frattura grave anche di fiducia per quanto riguarda la rappresentatività. Per il resto, come scelta, non potevamo fare altro che oltre a dare un'indicazione per chi noi vorremmo vedere rappresentato alla carica più alta e più rappresentativa dello Stato, abbiamo voluto dare anche un segnale, non votando per il portavoce dell'opposizione, che formalmente non ci rappresenta in quanto non ha avuto il nostro voto, anche perché non lo ha cercato, abbiamo voluto anche dare un segnale chiaro che per noi non sarebbe stato possibile mandare a Roma nessun rappresentante che intendesse votare candidati che per noi sono assolutamente non idonei a ricoprire la più alta dignità del nostro Paese. Ultima seduta del Consiglio che si è aperta con un omaggio a David Sassoli, il Presidente del Parlamento Europeo, recentemente scomparso. Una rosa bianca sulla bandiera blu stellata dell'Unione Europea. Una rosa bianca appoggiata su un tavolo accanto alla bandiera blu stellata dell'Unione Europea, nell'aula riunita, in memoria di David Sassoli. Poi in ascolto del videomessaggio che il Presidente del Parlamento Europeo inviò all'Assemblea Toscana in occasione della seduta solenne per la festa dell'Europa lo scorso 11 maggio, salutato al termine con un lungo applauso. Il Consiglio regionale della Toscana ha ricordato così la figura di David Sassoli, morto l'11 gennaio scorso. David Sassoli amava la Toscana, David Sassoli ci ha sempre mandato dei messaggi importanti, dei messaggi forti su quella che deve essere l'Europa, l'Europa dei popoli, un'Europa in cui si riduca le ingiustizie, un'Europa attenta agli ultimi. Ecco, ad un grande uomo, ad un grande giornalista, ad un grande politico, ad un grande uomo delle istituzioni noi abbiamo deciso tutti insieme, senza distinzione di colore politico, di dedicare il nostro nuovo media center e oggi in aula, sulla bandiera dell'Europa, posta al centro della nostra aula, Assemblea Legislativa, abbiamo deciso di mettere una rosa bianca che era il segno di quando Sassoli da ragazzo combatteva contro ogni forma di discriminazione ed era il modo per ricordare quei gruppi di ragazzi che combattevano i nazisti. Un segnale forte e chiaro qual è la parte giusta della storia da cui stare. La rosa bianca aveva un significato importante per Sassoli. Da giovane studente a Roma ha guidato un gruppo giovanile che si chiamava proprio così, in memoria dei coraggiosi giovani tedeschi che avevano combattuto contro i nazisti. Persone come loro erano modelli per Sassoli. I loro valori erano i suoi valori, antifascismo, democrazia, rispetto della dignità umana. Davide ha combattuto per questi valori, per tutta la sua vita. All'unanimità il Consiglio regionale ha approvato una risoluzione per chiedere che la produzione dei marroni nella fabbrica di Marradi, Romagna-Fiorentina, rimanga in loco. La Giunta regionale toscana dovrà continuare a monitorare la situazione relativa allo stabilimento di Marradi dell'ortofrutticola del Mugello, a tenere aperto il tavolo di crisi aziendale affinché Italcanditi, proprietaria dello stabilimento, non sposti la produzione a Bergamo come annunciato ed anzi rilanci la produzione nello stabilimento di Marradi. È quanto prevede una proposta di risoluzione approvata all'unanimità dall'Assemblea regionale. L'atto, votato da tutti i partiti politici, è stato presentato come allegato alla comunicazione della Giunta sulla vertenza della fabbrica di Marroni. Quello che abbiamo approvato ieri è un atto importante perché dà forza al Presidente della Regione, alla Vicepresidente, a tutta l'unità di crisi regionale per l'incontro che ci sarà venerdì prossimo con l'azienda, il secondo. L'azienda ha fatto una scelta secondo noi profondamente sbagliata e per la Toscana e anche dal punto di vista industriale. I Marroni di Marradi sono un patrimonio di tutti noi, un patrimonio culturale, di paesaggio, agricolo ma anche industriale nella loro trasformazione. E quella fabbrica che occupa tra stagionali, in particolare in modo donne, più di 80 persone e quasi 90 se si contano coloro che lavorano in modo stabile dentro l'azienda, capite che per un paese di 3.000 abitanti diventa una bomba sociale difficilmente sopportabile, anzi impossibile da sopportare. Per quello noi siamo andati, tanti consiglieri, il nostro gruppo, il nostro partito, ma tante forze sociali, politiche hanno voluto testimoniare solidarietà, vicinanza, ma non solo, anche il lavoro per una prospettiva che parte dall'ascolto di queste donne, di questi uomini che hanno rischiato di perdere il lavoro e che anche di fronte al primo passo importante, cioè l'azienda ha rinunciato alla chiusura dello stabilimento, ha bisogno ora di un secondo passo fondamentale, un piano industriale serio, credibile, che mantenga le produzioni di eccellenze e di qualità in Toscana e lì, perché lì c'è il prodotto pregiato, perché lì c'è la capacità di trasformarlo in maniera seria, perché lì ci sono le professionalità e la passione che si trasmette da secoli verso un prodotto così importante per la montagna mugellana e per la montagna toscana. Quindi continueremo a lavorare con forza insieme alla giunta regionale. Abbiamo presentato anche noi un atto di impegno per l'ortofrutticola del Mugello, per l'azienda che si è vista sottrarre la trasformazione del suo prodotto tipico. Siamo stati presenti anche al presidio per portare la nostra solidarietà e quello che abbiamo trovato è stata una scena commovente. Un'intera comunità e il suo sindaco riunite intorno a delle famiglie, perché qui si tratta di famiglie intere, che lavorano a quella che è la loro tradizione, il loro orgoglio e che è quello che ha permesso anche loro per molti anni di portare a casa una fetta importante dello stipendio. Lo voglio ricordare, sono soprattutto molte donne che lavorano in questa azienda stagionali e il fatto di essere all'improvviso e in circostanze simili di essere messi a conoscenza di questa notizia è stato qualcosa che ha sconvolto non soltanto la comunità di Marradi ma tutta la Toscana. Una forma di delocalizzazione sui generis che però non possiamo accettare. Per questo anche noi abbiamo aderito poi all'atto che tutti quanti i gruppi hanno sottoscritto per rinnovare l'impegno a sedersi al tavolo con la proprietà e convincere non soltanto a non chiudere l'azienda ma anche a lasciare lì la produzione e la trasformazione del prodotto che viene raccolto proprio in quelle zone, il marrone mugellano. Perché se la produzione si può trasferire e questo dal punto di vista della morale, dell'etica economica certo non ci fa felici, non è certo possibile spostare la produzione di qualcosa che è così caratteristico come appunto il prodotto delle castagne del Mugello. Ed è tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. L'informazione con le attività del Consiglio regionale della Toscana tornano la prossima settimana. Grazie. 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 Grazie.